Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su G&M e sono sempre qui con la mia domanda. Per iniziare iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, se siete matti604 con altri account lasciate un bel non mi piace, tanto i soldi riguaggiano lo stesso. Quindi ci andiamo a fare come al solito le Bad Wars, perché a noi ci piacciono, siamo connessi a server Bad Wars 3, come al solito con la mia bella skin, che non è che ci hanno tutti, è che modificando come al solito la texture di Steve e di Alex, è venuta qui questa skin, e non riesco a connettermi con questo server, comunque ci vediamo in partita. Ragazzi siamo in partita, qua come al solito è la lotta per avere le risorse, e ragazzi spero di avere un team buono, questa volta siamo nel team blu, sempre la stessa pochissima, ma... Ah, allora già, allora, questo team all'inizio mi sembra una merda, perché in realtà come coprono il letto, però, già che mi danno delle cose, pare diciamo avvantaggiabili, sono un po' più contento, quindi... Per ormai è sempre il quattore, devo perdere tempo a coprire questo po' tuttissimo letto, dammi loro, dammi loro, dammi loro, dammi loro, grazie per l'oro, lo siamo tutto, prendiamoci la lana, prendiamoci questi, ancora cose, dammi due di oro, ok, se posso prendermi già la spada, loro con i diamanti, non so che fanno, se li tappano da carina, molto probabilmente, prendo la lana, magari se con questo ferro mi posso prendere anche un piccone, ma intanto io copro ancora di più il letto. Ok ragazzi, qua abbiamo coperto il letto, cioè ho coperto il letto, Allora, io quasi quasi, avendo un po' di ferro, mi prenderei anche un piccone, che non si sa mai, un piccone in pietra, meglio di niente, e direi che posso anche andare, vediamo come è coperto il letto dei verti, con della semplice lana, ah, con della semplice lana, vabbè, Allora, sapete cosa faccio? Mi compro una semplice fireball, per della semplice lana, e andiamo a spaccare, semplicemente, il loro letto, come? Cioè, da lontano, ah, cazzo, i gialli, eccoci, i gialli possono essere un problema, perché mi sembrano pochi, allora, il green è rimasto da solo, e io lo vado a prendere, lo vado a prendere, lo vado a prendere, sta andando dal giallo, giallo, ti salvo, no, dove va? Oh, salvo, dove stai? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, che cazzo è? È un po' forte, mi pare, eh, mi ha fatto troppi danni, oh! Ha ucciso il mio compagno? Non si va a colpire! No, non è possibile, ragazzi, questo è un hacker! Non si va a colpire! Ecco perché è rimasto vivo! Sto coglione! Minchia! Adesso, ah, finalmente, è morto quel coglione di merda! Il coglione di Mattis 04, eh, eh, eh! Adesso non ho più oro, perché magari potremmo andare le gialli, a sto punto, perché... Andando dai gialli, dammi i diamanti, i diamanti, i diamanti, i diamanti, i diamanti! Bastardo! Allora, io a sto punto me ne andrei verso il centro, vediamo, uh, lì c'è il giallo, che hanno già le cose con sharpness, probabilmente avrete gli smeraldi. Ok, mi hanno fatto lo sharpness, ok, ho lo sharpness, salve, salve, giallino! Manca di ca... No, cazzo, via! Non corre! Via, 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 mi giro, non c'è nessuno. Ragazzi, qua siamo messi un po' male. Mi prenderei io subito un piccone, però, o della TNT. Ok, gli A qua sono stati eliminati, da? Da chi? Mi sa dai gialli, non lo so. Non lo so, non è molto così, c'è scritto in chat. Comunque, allora, io vi prenderei di nuovo un piccone della TNT. Andiamo a spaccare il letto ai gialli. Che loro sono pericolosi, ecco, difatti. Difatti, eccoli là, che vengono. Sì? Vai di là, vai di là, vai di là, bravo, giallino, bravo, giallino. Vai di là, che io ti vengo in base. Non so se hanno un it's a trap. Ah, ok, lì c'è un giallo. Che ha una, qua. Oddio, mi ha fatto spaventare. Salve. Salve. Bravo, bravo. Spara, spara. Spara. Uccidiamo. Adesso ci penso io a lui. Salve. Bastardo. Avete visto come l'ha schivata? Comunque è stato bravo. Gliela concedo, questo. È stato bravo. E ha avuto un po' di culo. Ok. Ok. Possiamo andare, è arrivato il momento. È giunto il momento. Di andare. Gliela, gliela, gliela. No! Mi ha fatto cadere, bastardo. Pensavo di riuscire a schivarla. Pensavo di riuscire a schivarla, perché... Boh, avevo saltato in modo tale da riuscire a schivarla. Ok, qua abbiamo fatto di z-trap e ironforge, almeno ce l'abbiamo. Mi prendo una spada di... Il red. C'è il red là sopra. Che vuole fare, il red? Il biglietto? No, porca vacca, mi inculano sempre i diamanti. Chi è? Chi è? Sento troppi rumori per i miei gusti. Mi sento davvero troppi. Ok, qua hanno messo un iron golem. Grandi! Ok, sto laggando. Sto laggando, perché in questo momento sta comunque caricando un video. Il secondo video è la Corsa in Survival. E qua abbiamo un red. Birichino! Birichino! Adesso che ti spacco tutto, ti spacco. Ti spacco tutto, ti spacco. Ti spacco tutto, ti spacco l'obietto. È caduto! È caduto! Allora, siccome i red mi stanno antipatici, Allora, io mi prendo un arco. Bravo, spacca tutto e... Guardate, mi posso prendere un arco con delle frecce. Dopodiché, con dei blocchi. Posso andare anche a spaccargli the bed. Ok, io magari ti supporto. Non saprei. Oppure ti sparo da lontano. Non saprei, però... Uh, grande Pink. Però io ti sparo. Vai! Sì! Grande! Vattene Pink! Vattene Pink! Minchia, non li riprendo! Ok, vi faccio capire che... Vei, ci sono. No, per pochissimo l'ho mancato. Io con l'arco non sono proprio... Le best. Porca troia! Spacca... Spacca tutto. Spengi il fuoco, spengi il fuoco. Ma brutti bastardi che non siete altro. No! Red! 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 E va! E sono caduti. Sono caduti. Quei brutti... Ehi! Ancora? Ancora? Ancora ne vuoi? Ancora ne vuoi botte? Sei mio? Eh no, mi ha fottuto la kill. Eh, vabbè. Quello ha il piccolo indiamante! Mamma mia! Troppo forte! Arrivedi... Mettere ancora lana. Ancora più lana. Because... This is a... Pericolous moment. Ah, vabbè. Dai, metti... Handstone. Io proprio ancora di più con la lana. Boh, allora, tu, c'ha scassata la minchia. C'ha scassata la minchia, pericolosi. 5 diamanti. Ma sono tutti i miei, 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 miei. Mi porto in base, che faccio? Un'insertrap? Eh... Un solo insertrap. Cioè, per mettere un'iappuntura, non serve molto. Invece mi prendo altra handstone e mi comincio a costruire pure qua. Ehi! Salve! Come va? Come se la passa lei? Brutto stronzo. Vaffanculo! Grazie di tutto, di tutte le risorse. Guarda, tu guarda, ce l'avevo in base. Quello stronzo. Ah, sì? Ehi! Ehi! Con cosa mi picchi? Con un piccone che non ha neanche un minimo di armatura? Coglione! Ah, ho capito dove è venuto in rosa. E quanti golem abbiamo? Oh my god! Quanti golem? Ehi! Vado a prendere comunque. Frecce. E tanta! 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 Andstone ancora. Ok, con uno stack. Quasi. Dovei essere a posto. Ehi! Salve! Lei è stronzo. Ehi! Pazzo, suicida di un golem. Io sono scarsissimo con l'arco. Ma comunque qua. Quanto mai ci dobbiamo distruggere sto letto. Sto letto è una cosa inespugnabile. approccio. E vattene a fanculo. Muori con gli... Ma sono i passi sono i pink e i yellow. No, se riesco ad andargli... Cioè io gli vorrei andare in base a pensare... Ma sapete che faccio? Ma io mi metto a Golden Forge. Qua in base. E con la Golden Forge abbiamo gli smeraldi. Non so se regno. Che upgrade. Eh. Eh, dai eh. Con gli smeraldi. Ma è credo che mi prenderò la spada in diamante. Eh. Quanta roba. Ammi un sacco di golem. Ammi golem. Golem. Fireball. Ok. I pink però. Dove sono? Da là. Vedo la bandierina. Non so se la vedete pure voi di la bandierina. Comunque... Ok, il mio compare sta tornando in base. Io a sto punto... Uh, però a questo... A questo che ci sono degli smeraldi là. Dammi gli smeraldi. No, no. Sei inculato con il mio... Il mio compare. A sto punto... Eh... Porca vacca. Dammi degli smeraldi. Tanti smeraldi. Perché io ho paura di andarmi al cielo. Io li sento gente. Salve! Che cazzo fa? Che cazzo fa? Che cazzo fa? Ah, si è fatta esplorare! Coglione! Qua c'è un... C'è un... Le fiamme... Ok, tutti i letti sono stati distrutti. Datemi... Degli... Smeraldi! Voglio una spada in diamante! Ok. Spada in diamante. Spada in diamante. Dammi questo. Dammi questo. Questa la vinciamo, dai. La possiamo vincere. Quello ci vuole sbaccare il letto. Ma guardate, prendo anche l'infamata. Vediamo anche l'infamata. La cosa più infame del mondo. Il bastoncino! Faccio così. Faccio così. E così. Chi è che scassa un po' la minchia? Io... Io vi avviso, eh. Io vi prendo, vi vengo a prendere tutti. Qui all'ultimo. Guarda qua, che ingegno. Eh, devi tornare. Ah, torna in base, dai. Tornatela. Tornatela in base, Oga. No, no, già è caduto. Eh, il primo è caduto, eh. Colocare. Colocare. No! No! No, papà, affanculo. Bastardo, qua c'è una lì. Smergando. Li metto qua per ora. Devono essere miei. Si arriva a sei. E quelli hanno tutti l'armatore in diamante Cazzo Qua è dura Oh Lug Vediamo se Qua ci sono pure gli smeraldi Vediamo cosa c'è in questa base Vediamo se c'è qualche rosa Chi lo può sapere Comunque siccome non mi fido molto Il mio compagno non fidatevi mai Eccolo di fatti Sono rimasto da solo Sono rimasto da solo No porco Si è pure chiuso Minecraft Tutto bugato Raga Ma comunque Per Comunque per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per lasciare Mi piace se questo video è piaciuto Iscrivetevi al canale se è ancora fatto Commentate qua sotto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao